Un match incredibile, davvero incredibile. Sì, credo che è un bellissimo match, sui due parti. Ci sono stati fantastiche, come Perucci e Luba, credo che adesso sono probabilmente i più forti team del mondo, quindi tutti i fan che erano oggi nel gioco credo che sarei felici e ricorderemo questo gioco per un lungo tempo. Per te, personalmente, è un gioco importante, un gioco davvero importante. Sì, credo che per ogni gioco, anche per me. Credo che possiamo essere molto felici con la nostra situazione e con i nostri raggiunti. Andiamo a cercare ora. Che credi che quando perdete il quarto set? Sei freddo? Credo che in questo momento sia meglio non pensare troppo. e questo è quello che ho cercato di fare. Grazie. Grazie. Grazie.